Che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e una speranza appienata ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi e tutti noi sappiamo che c'è l'humore per tre giorni poi sorge in ciò che noi crediamo che è risorto, in ciò che noi vogliamo che è risorto nel mondo che faremo, che è risorto